19 ottobre 2016, in un'abitazione di Palese, un'anziana donna, sola e affetta da disabilità, fu vittima di una rapina a causa della quale, per il trauma subito, fu colpita da infarto cardiaco e ricoverata in ospedale. In queste ore i carabinieri della stazione di Santo Spirito, dando seguito ai 5 arresti operati già lo scorso 15 novembre, hanno tratto in arresto anche il sesto componente della banda. Si tratta di Giovanni De Noia, 27enne della zona, con precedenti per rapina, il quale, nella circostanza, aveva fatto parte proprio di coloro che erano entrati in casa e avevano materialmente minacciato la donna e sottratto i preziosi. La rapina, secondo quanto emerso dalle complesse indagini investigative, era stata resa possibile grazie alla complicità della badante, della donna e del suo compagno, i quali, con l'ausilio di altri complici in un'azione organizzata, avevano fatto accesso all'abitazione col favore del buio, intrattenendosi per diverso tempo all'interno. In questa fase avevano sottratto tutti i valori custoditi dalla donna, togliendo dal muro una cassaforte contenente preziosi per 15 mila euro. La donna, minacciata inerme, fu costretta ad assistere alla rapina senza poter fare nulla. Con l'ultimo arresto è stato chiuso il cerchio di una triste storia che ha visto come protagonista una donna, anziana, sola e per di più disabile.